Monta la protesta a Montore Alvomano da parte di cittadini, associazioni e opposizione comunale per dire no al taglio degli alberi alcuni secolari su Viale Duca degli Abruzzi dopo la determina fatta dall'amministrazione comunale. La determina in questione la numero 24 del 20 gennaio 2022 dove il comune recepisce le segnalazioni di pericolosità e dispone di provvedere all'abbattimento degli alberi sostituendoli con alberature di terza grandezza idonea alla piantumazione in prossimità degli edifici per evidenti motivi di sicurezza nonché di manutenzione. Nella determina si precisa inoltre il numero di 13 piante adulte e smaltimento del materiale di risulta in particolare 4 pini da leppo, 2 cedri dell'Atlante e 7 cipressi con l'affidamento dell'intervento per l'importo di oltre 14.000 euro. Noi non sappiamo se realmente siano tutti da abbattere questi alberi ma non riteniamo plausibile che venga presa una decisione improvvisa visto che la relazione è di 5 mesi fa. Se ci fossero reali motivi di urgenza allora non capiremmo perché l'intervento non è stato fatto prima. Se i motivi di urgenza non ci sono non capiamo perché nel momento in cui chiediamo di leggere la relazione si faccia l'ordinanza per abbattere gli alberi immediatamente senza darci modo di chiedere un ulteriore parere. Quindi noi facciamo appello anche alle associazioni che hanno proprio per vocazione il compito di difendere gli alberi, il verde e il paesaggio anche in cui viviamo perché ci aiutino a fare chiarezza, a darci degli elementi. Quando scopriremo e se scopriremo che gli alberi sono da tagliare tutti naturalmente non potremo, con dispiacere naturalmente, ma non potremo che accordare al sindaco la decisione che ha preso.